Ciao a tutti ragazzi, oggi ci troviamo a Gubbio, siamo in Umbria in provincia di Perugia e abbiamo fatto circa due ore di macchina partendo dal mio paese Civita Castellana per arrivare fino a qui a vedere l'albero di Natale più grande del mondo. Vi dico solo che abbiamo dovuto parcheggiare fuori dalle mura perché è stra pieno di gente. Ragazzi siamo appena entrati all'interno delle mura di Gubbio e c'è anche una pista da pattinare. Testimonianze di Don Matteo a Gubbio e c'è anche il trenino, hanno creato un vero e proprio villaggio di Babbo Natale. Queste lucine che vedete pian piano accendersi sulla montagna sono le lucine dell'albero di Natale. Guardate che spettacolo la piazza principale di Gubbio ma soprattutto guardate la mia sinistra che bellissimo panorama. Guardate laggiù ragazzi c'è anche la ruota panoramica. Adesso le lucine si vedono molto meglio di prima ma bisognerebbe trovare un posto per vedere l'albero completo quindi sicuramente bisogna allontanarci. Ok ragazzi siamo scesi ai piedi del paese e già da questa posizione quasi ideale si riesce a vedere la forma dell'albero di Natale. Provate per un attimo a pensare a quanto può essere grande la stella cometa che si trova in cima all'albero. Non so se riuscite a vedermi ma ci siamo allontanati un bel poco la macchina per cercare di scattare delle foto migliori all'albero di Natale. La nostra visita a Gubbio si conclude qua. Mi raccomando iscrivetevi al canale e ragazzi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti